Cresce con il vostro bambino. Xtensa Fix di Römer è un seggiolino con omologazione dei 9 e 36 chili, adatto per bambini dei 9 mesi fino a 12 anni di età circa. La sua unicità sta nel fatto di poter utilizzare le cinture a 5 punti fino a 25 chili, ben 7 chili in più rispetto agli altri seggiolini auto. La sicurezza è garantita dalle spallotte imbottite e dal sistema V-Titer posteriore che evita il ribaltamento in caso di impatto frontale. Invece le ampie sponde conferiscono la massima sicurezza negli urti laterali. La sua seduta è reclinabile in tre posizioni. L'altezza del poggiatesta è regolabile con una sola mano. Xtensa Fix soddisfa tutti i requisiti che vi aspettate da un seggiolino auto Römer. Il bambino sarà sicuro indipendentemente dall'età e dal suo peso.